Guarda, a me è pure sto fatto della Metro B che viaggia con le porte aperte, non mi dispiace. Pure per il discorso... Senti, piuttosto, dov'è che va in vacanza quest'estate? Ma quest'ora stiamo pensando di andare a casa della nonna, a Torvajanica. Col fatto che è sempre vuota, noi ci buttiamo, no? Eh, bravi, una robetta tranquilla, eh. Noi invece con Marta andiamo due settimane a Parè. Poi, come sorpresa, gli ho preso due biglietti per Disneyland. Col resort, all'arbergo, tutto incluso. Ammazza, è carino pure questo. Certo, costa un po' di più, però... Ma fatti bea di voi con Torvajanica, è pure più vicino. Quanto ci vuoi arrivare? Mezz'oretta. Con 600. Mezz'oretta. Caro, mi ha fatto un sacco piacere incontrarti prima che parto. Vado in agenzia a prendere i bigliettini. Salutami... Sara. Bravo. Ciao. Oh, salutami Marta. E manda qualche foto, eh? Sì, certo. Vado in agenzia a prendere i bigliettini. Ehi! Eh, che dovuti è? Uè, bella mister, che dici? Andate nemmeno in vacanza. Come stai, tutto bene? Tu apposto. Che hai detto prima? Come stai, tutto bene? Dov'ai in vacanza? Eh no. T'ho chiesto prima io. Parì. Ando. Parì. Parigi, resort, Disneyland, due settimane con Sara. Bravi, bravi, mi complimento, bella scelta. Costa un po' di più, eh? Però abbiamo dovuto fare lo stesso. Dopo permette tu. Invece mi vado a fare un giretto negli Stati Uniti d'America, organizzato con Giulia. Lei gli mette i tuoi sordi in mano, ti fa le magie proprio. Partiamo da New York, arriviamo a Miami e poi diretti a Santa Barbara. Una cosa on the road, un po' dangerous, come dicono loro, eh? Però non c'è un po' d'avventura, no? E noi pensa, a parte due settimane a Parigi, facciamo la Transiberiana. Quella che va dalla Cina al Giappone, ci hanno detto guardate è pericoloso. Però facciamo pure questa. Carpe diem, sfrutti il momento, bravo. Ma capace che ci incontriamo, perché io poi prendo un diretto da New York e vado in Talandia. Che ci andiamo a fare il festival quello di tirare i lanterni pari. Ma dai. Ma lei capace che ci vedete? Io sono buono, abbiamo affittato qualcosa, stavo proprio dentro le mongolfiere in alto. Ma non mi dico. Guarda noi l'avevamo vista quell'opzione, poi l'abbiamo scartata per fare una cosa un po' più soft. Ci riposiamo perché il giorno dopo partiamo dall'Himalaya col deltaplano, ci facciamo Himalaya, Pacifico. E noi pensa il giorno dopo affittiamo lo shuttle e andiamo verso Pandora. Ah, il pianeta, il pianeta Pandora. Quello, Pandora, quello, quello dove si incastrano? Quello dell'albero. Oh, come no, Pandora. Insomma rimaniamo a Roma tutte e due. Eh, mi sa di segno. Ma che c'è successo? Ma che ne so. Vabbè dai, non si poteva manna a fare un gelatino una sera, eh. Con Giulia, Sara, con loro chiacchierano, si svagano. So sì, pure io. Vabbè, se no un biliardino. Un due. Ma non mi posso muovere. Stanno ancora là, stanno. Ma che ne so, stanno zitti. Mi hai detto che andava a Parigi, che andava più ai bigliettini. E che gli dicevo, Nettuno. Eh...